Fare i conti con l'ambiente, Ravenna 2015, il tema oggi è l'acqua, siamo con Italia Pepe dell'Alto Provincia di Milano, di cosa parleremo dello specifico oggi? L'ufficio d'ambito della provincia di Milano gestisce il servizio idrico della provincia e in particolare si occupa delle autorizzazioni agli scarichi in pubblica fognatura di tutte le aziende operanti sul territorio del milanese e in particolare gli aspetti che tratteremo oggi saranno proprio quelli connessi alla potestà sanzionatoria, strettamente appunto connessa a quella autorizzatoria e quindi alle sanzioni, ai verbali di accertamento di trasgressione e a tutte quelle norme che presidiano quella che è la qualità dell'acqua e quindi la qualità dell'ambiente. Grazie, fare i conti con l'ambiente, Ravenna 2015.